Sip ready, attention Grazie Dai Matteo, accorcia un po' e tira la bocca, vai Aspettiamo gli ultimi cinquecento Primo cambio in questo momento per Dianro Grandi Con Maggiere Ghetti che ha lasciato la moglie caldata Ogni prima posizione, un 25 metri di mandato sul mio figlio Vantaggio che sta delapidando malamente fin dai primi colpi Ancora 13-14 metri, vantaggio per Dianro Grandi su no fear in questo momento Terzo posto consolidato per no fighters su cross formento Duecento metri alla fine di questa seconda frazione Con ancora un piccolo vantaggio per Dianro Grandi su no fear Punto punto in questo momento, quindi sarà bella responsabilità del terzo funzionista Per... 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 l'ultimo prezionista l'ultimo prezionista l'ultimo prezionista l'ultimo prezionista l'ultimo prezionista Grazie a tutti.